Bene, ragazzi e ragazze, questa è la seconda puntata della nostra introduzione minimale a una introduzione minimale della programmazione. Ho iniziato ieri, quindi se non avete visto il video di ieri vi invito a farlo, altrimenti il video di stasera non riuscite a seguirlo. Questi video non sono chiaramente obbligatori, sono solo per quei di voi che mi avevano chiesto quando ancora esisteva una scuola, qualche lezione su una possibile introduzione appunto alla programmazione. Abbiamo parlato parecchio ieri, vi ho fatto vedere una breve introduzione al linguaggio Python che è quello che utilizzeremo anche in queste lezioni successive e quindi stasera andiamo un pochettino avanti. Nel programma che abbiamo strutturato ieri, che è appunto un programma che calcola la velocità di fuga da un pianeta in cui si conoscono la massa e il raggio, eravamo arrivati a vedere come importare una libreria di funzioni, in questo caso la libreria standard del Python per la matematica, definire una variabile globale, cioè una variabile che può essere utilizzata ovunque in questo momento nel programma, che sarebbe in questo caso la costante di gravitazione universale, definire una funzione con due argomenti, la massa e il raggio del pianeta, e che ritorna la velocità di fuga. E poi abbiamo visto come chiamare la funzione per calcolare la velocità di fuga di due pianeti dando la massa e il raggio e stampare a video, tra virgolette, il risultato ottenuto. Allora una cosa prima di andare avanti, in realtà nel codice di ieri, il codice di ieri è leggermente diverso, se ricordate, ieri avevo dato un codice di questo tipo, ok? Che quindi se adesso vado a eseguire mi dà in le due velocità in metri al secondo, ok? Allora questa scrittura qua, questo codice qua è un po' ridondante, nel senso che vedete questa variabile v, le assegno il valore del calcolo e poi non ci faccio altro, cioè la restituisco fuori dalla funzione. Questa variabile v si chiama variabile locale, cioè al di fuori questa funzione è come se non esistesse. E quindi tutto sommato non vale la pena sprecare due righe per fare questo tipo di operazione e si può fare la stessa cosa in questo modo, cioè faccio il calcolo e lo restituisco con l'istruzione return direttamente come uscita dalla funzione. Così abbiamo un codice più compatto e più semplice. Mi raccomando, come dicevo ieri, la documentazione, quindi i commenti della funzione. Per esempio, come accennavo, poi qua stiamo facendo le cose un pochettino così in velocità, bisognerebbe scrivere nel commento della funzione che tipo di argomenti richiede, per esempio l'unità di misura, questo è un codice di fisica e quindi questo 6 per 10 alla 24 la massa dovrebbe essere specificata da qualche parte, che escape velocity questa funzione richiede la massa in chilogrammi, per esempio, e il raggio in metri e così via. Va bene, quindi tutto quello che abbiamo visto ieri. Allora, ieri siamo lasciati con un piccolo problema, e cioè che se io chiamo questa funzione con un raggio zero o una massa o un raggio negativi, qui c'è una radice quadrata di una frazione che potrebbe non esistere. E quindi il programma in quel caso non va a buon fine, crasha, e questo abbiamo visto può essere un problema, ok? Quindi bisogna mettere in qualche modo, fare in modo che questa funzione non crashi se io fornisco un risultato, per esempio, sbagliato. Molto lo fa la documentazione, cioè è chiaro che io quando uscirò questa funzione nel mio programma dovrò stare attento a chiamare questa funzione con valori sensibili, scusatemi non sensibili, voglio dire sensati, cioè non ha senso per esempio chiamarla con il pianeta con un raggio pari a zero, va bene? O addirittura una massa o un raggio negativi. Però chi fa codice non può, come dire, dare per scontata la correttezza dell'utente finale del proprio codice. E quindi bisogna stare attenti a non introdurre possibilità di bug, di crash involontari. Quindi è bene mettere qua, per esempio, una salvaguardia, tra virgolette, che la funzione non richiami la funzione sqrt, la radice quadrata, quando non dovrebbe. Allora, per far questo ci sono molti costrutti in Python, alcuni sono più eleganti di altri, che vi faccio vedere quello forse meno elegante, ma che mi permette di introdurre una struttura importante nella programmazione, cioè le strutture condizionali. Allora, l'idea è la seguente, che si costruisce una istruzione cosiddetta if, cioè si scrive if, if, cioè se, è un'istruzione che permette di dire al mio codice fai una cosa se succede questa cosa, fanno un'altra se ne succede un'altra, ok? Quindi possiamo scrivere, per esempio, if la massa è maggiore di 0 and il raggio è maggiore di 0, quindi se sia la massa che raggio sono strettamente positivi, allora il calcolo con la radice quadrata di 2gm fratto r lo posso fare. Dopo l'istruzione if, ok? Questa tra parentesi, quella che si chiama la condizione, quindi se vale questa condizione, quindi se questa condizione è vera, dopo i due punti posso mettere quello che va, deve essere eseguito nel caso che la condizione sia vera. E quindi, in questo caso, lo devo indentare, però. Cioè, le istruzioni che vanno eseguite dopo l'if devono essere allineate, come prima, a destra di if, come qua in def, no? Quindi il Python non usa le parentesi, ma usa l'indentazione del codice per stabilire quali sono i blocchi. Quindi, questo if, se va a buon fine, cioè se questa condizione è vera, tutto quello che è a questo livello lo eseguirà. In questo caso c'è una riga sola. Se m è maggiore di 0, r è maggiore di 0, possiamo calcolare la riga e restituiamo il valore richiesto. Se provo a eseguire questa funzione, cosa succede? Succede che, proviamo, allora rispetto a prima adesso non è cambiato niente. Se però, per esempio, qua metto un valore di massa negativo, allora vedete che è comparso un non qua. Cosa è successo? È successo che questa funzione, nel secondo caso, quindi questo 3.086.838, è andato tutto a buon fine perché le due condizioni massa e raggio soddisfano l'if. E quindi questa velocità del pianeta x, l'abbiamo chiamato ieri, è calcolabile, viene calcolata. Nel primo caso, però, la condizione sulla massa non è soddisfatta. Siccome questo è un end, tutte e due devono essere vere per poter andare avanti. Quindi lui, praticamente, non ha eseguito questa parte del codice. Non eseguendo questa parte del codice, questa funzione def è uscita senza alcun return. La convenzione in Python è che se una funzione esce senza return, restituisce quello che si chiama un valore non. Il valore non sarebbe come in matematica di insieme vuoto, cioè non ha restituito niente. Quindi è chiaro che questa cosa qua, intanto il programma non è crashato. E l'operatore si accorgerà da questo non che è andato tutto a buon fine. cioè che non è andato tutto a buon fine, scusate. Però non è andato a buon fine senza crashare. Quindi, per esempio, il valore successivo del pianeta x me lo ha calcolato. Mentre prima, senza questa if, lui si sarebbe fermato al primo calcolo, trovato l'errore, sarebbe proprio uscito dal programma senza stampare niente. Quindi vedete che la cosa va un po' meglio. Sarebbe il caso, però, magari di avvertire l'utente che ha utilizzato un valore sbagliato. No? Allora qua, tutto questo, ripeto, è didattico, va bene, in un codice reale di questo tipo, le cose andrebbero fatte in maniera molto più sofisticata, usando per esempio un sistema di logging, e cioè non stampando a video quello che sta succedendo, ma salvando in dei file di log che sono dei veri e propri diari del codice. Quello che sta succedendo in modo tale che un programmatore che vede che un programma non va accedendo a questa sorta di diario riesce a scoprire cosa è andato storto. Va bene, però, ripeto, stiamo facendo qualche esempio molto semplificato. Allora, l'istruzione if ammette anche un else, che sarebbe altrimenti in italiano, ok? Quindi qui cosa diciamo? Se vale questa condizione, fai questo. In questo caso questa è questa riga, restituisci il valore della radice quadrata di 2gmr. Altrimenti, quindi questa parte di codice verrà eseguita se questa è falsa, quindi se una delle due o entrambe non sono vere, potremmo per esempio scrivere print, attenzione, valori di ingresso sbagliati. È un tipo di messaggio assolutamente pessimo questo, perché, attenzione, valori di ingresso sbagliati, non dico dove. No, magari io qui adesso ho un programma in cui ho una sola funzione, quindi è chiaro che mi sto riferendo alla funzione escape velocity, ma immaginate un programma che abbia 47 funzioni e a un certo punto mi compare sullo schermo, attenzione, valori di ingresso sbagliati, senza specificare da quale funzione arriva, l'eccezione, insomma, diventa difficile poi fare il debug di questo programma, quindi è solo, ripeto, per farvi vedere come funziona l'istruzione if else. Allora, a questo punto, se salvo, ecco, vedete, attenzione, valori d'ingresso sbagliati, quindi intanto mi sono accorto quando ho chiamato questo vt, lui ha stampato nel primo caso questa stringa. Ultima considerazione sull'if, vorrei inoltre stampare i valori delle velocità di fuga solo se questi mi sono stati dati, cioè non ha molto senso che io poi stampia anche questo known, ok? Allora qua potrei semplicemente fare così, scrivere if vt, due punti, print vt. Intanto vi faccio vedere cosa succede. Allora, vedete che adesso lui mi dice, attenzione, valori d'ingresso sbagliati perché alla chiamata di escape velocity con un valore negativo della massa ha stampato il messaggio di errore. E notate che poi quando arrivo qua, questo primo print non lo ha eseguito. Vedete, non c'è più scritto known, ha eseguito solo il secondo. Chiaramente io dovrei mettere un condizionale anche qua. Vedete che adesso ottengo lo stesso risultato, il secondo l'ha stampato. Allora cos'è questo if? Questa roba qua, vt, nel primo caso è known, nulla. Allora nulla il python in un'istruzione if lo considera come falso. Invece vx è un numero, 3.086.838 ms. Se in un if metto una variabile senza condizione, l'if passa, quindi è valido soltanto se la variabile è diversa da known, quindi è una variabile non nulla. L'altra cosa particolare, come vedete, non sono andato a capo. È possibile in python costruire un if direttamente su una riga sola. Non è il massimo, normalmente, della chiarezza nel codice, però quando abbiamo degli if così brevi, tutto sommato il codice compatto è sicuramente più interessante da leggere. Adesso vedete che se io rivado a cambiare qui questo meno e li metto più, adesso non solo non mi dice attenzione vado in ingresso sbagliati da nessuna parte, ma me li stampa tutte e due. Quindi abbiamo con un costrutto if else visto come è possibile creare del codice in python che venga eseguito a seconda che succedano una certa condizione e viene eseguita questa riga e se non succede questa condizione viene eseguita un'altra. La cosa si può estendere ulteriormente, c'è anche un ulteriore ricostrutto con gli if e gli else, ma lo vedremo eventualmente. Un'altra volta questa è un'introduzione proprio minimale, come dicevo. Ora c'è un problema. Il problema è questo. Uno, questa struttura qua è abbastanza orribile. Cioè voglio la velocità di fuga del pianeta Terra, la velocità di fuga del pianeta X e poi le voglio stampare. Vedete che c'è molta duplicazione. Chiamo escape velocity due volte con due valori diversi e qui dico di stampare il valore vt in caso e vx in un altro con dell'if davanti. Finché sono due, ma immaginate che io devo fare questa cosa per dieci pianeti, diventa una struttura orribile. Quindi una prima considerazione da fare è abbastanza brutto un codice fatto in questo modo. La seconda considerazione da fare è vediamo cosa succede se io voglio aggiungere al mio codice una nuova funzione. Questo problema che vi ho appena detto di duplicazione delle cose scritte, diciamo, incomincia ad aumentare, diventa abbastanza fastidioso. Allora supponiamo, programma per calcolare, anziché la velocità di fuga, mettiamo alcune velocità, senza l'accento però, caratteristiche di un pianeta. Anche qua in realtà sarebbe di un corpo gravitante che esercita una trazione gravitazionale, potrebbe essere anche una stella o una luna e non un pianeta. Ma insomma di questo ci occuperemo un'altra volta. Allora, oltre alla velocità di fuga, possiamo scrivere che questa è la velocità di fuga, che è questa, vogliamo anche calcolare che sono la velocità orbitale. Dove velocità orbitale è la velocità di un'orbita circolare a un'altezza h rispetto alla superficie del pianeta. Se vi ricordate la teoria, questa velocità, questa chiamiamola vf, questa chiamiamola vo, la velocità orbitale è data da una formula simile, cioè abbiamo gm, non senza il 2, diviso il raggio del pianeta più l'altezza dalla superficie. Quindi questa è la velocità orbitale di un oggetto che ruota su un'orbita circolare di altezza h rispetto alla superficie di un pianeta di massa m e il raggio equatoriale r. Ok? Allora, beh, adesso abbiamo capito come fare funzioni, facciamo una nuova funzione. Ok, visto che è molto simile, facciamo una cosa, copiamo questa e cambiamo nome, anziché skip velocity chiamiamola orbital velocity e questa funzione non richiederà solo la massa e il raggio del pianeta, ma anche l'altezza a cui vogliamo, rispetto alla superficie a cui vogliamo far ruotare il nostro oggetto intorno al pianeta. Ok? Quindi sono tre le variabili in ingresso. Siamo? Perfetto. Cambiamo anche questo che fornisce la velocità orbitale. Teniamo queste due condizioni e aggiungiamoci anche h maggiore di 0. Cioè non ha molto senso chiedersi la velocità orbitale ad altezza 0, ok? Con il corpo sulla superficie. E a questo punto possiamo modificare la formula che sarà g per m fratto a parta tonda r più h. Ok? Questo è il punto in cui vi dicevo, vedete che adesso ho due funzioni diverse ma che danno lo stesso codice di errore. Non ha molto senso una cosa del genere, no? Bisognerebbe qua specificare, attenzione, valori di ingresso sbagliati nella funzione escape velocity e qua sotto nella funzione orbital velocity. Però adesso non mi interessa anche perché adesso cercherò di non passare valori sbagliati, era solo per correttezza. Normalmente si fa in un altro modo, ok? Bene. Adesso a questo punto possiamo provare a calcolare per esempio le velocità orbitali a un'altezza che so io di 200 km. Ricordatevi che anche qua andrebbe scritto stiamo facendo tutto nel sistema internazionale, quindi metriche. Allora per esempio potrei chiamare la velocità intorno alla Terra orbitale, inventiamoci una nuova variabile, uguale a orbita, e qui iniziamo a vedere il problema di cui vi accennavo prima. 6 e 24,6 e 6, diciamo 400 km, l'altezza della stazione spaziale internazionale, 400 km quindi sono 4 e alla 5. 400 km sono 40.000 metri. Cosa sto dicendo? 400.000 metri, quindi 4 per 10 alla 5. Allora il problema di cui vi parlavo prima è che questo è dell'altro pianeta. Adesso ho due velocità che mi interessano, la velocità di fuga, allora chiamiamola Vf, e la velocità Vtf, velocità di fuga dalla Terra e velocità orbitale della Terra, ok? A un'altezza. Ora vedete qual è il problema? Che per calcolare queste velocità, in fondo la massa della Terra e il raggio della Terra non sono cambiati, cioè sono sempre questi due. Eppure li devo mettere da tutte e due le parti. Ok? Per ora dimentichiamoci il pianeta X, cancelliamo questo, e stampiamo qua adesso la velocità di fuga e la velocità orbitale. Vediamo cosa succede. Eccole qua. Allora, il programma ci dice che la velocità di fuga dalla Terra, come abbiamo visto ieri, 11.549, virgola qualche cosa, quindi 11 km al secondo, 11,5 km, e la velocità orbitale all'altezza di 400 km, cioè di 400.000 metri, è di circa 8.000 metri al secondo, 7.900. Quindi più bassa della velocità di fuga, d'altra parte se sono in orbita non sono fuggito. Allora, si incomincia a entra vedere in questa struttura qualcosa di fastidioso. Primo, riempio lo spazio globale, quindi il programma ha tutta una serie di definizioni di variabili, tutto sommato ripetute, VTF, VTO, VTF, VTO, VTF, VTO, abbastanza fastidioso. Secondo, questi numeri che sono la massa e il raggio della Terra, mi tocca ripeterli più volte. Questa obiezione potrebbe essere risolta, va bene, ma rimettiamola in una variabile. Mettiamo qua su in cima, vicino a g, ops, scusate, m, mettiamo qua 6. No, scusatemi, 6e alla 24 e r 6e alla 6. Quindi possiamo mettere la massa e il raggio della Terra come eravamo partiti ieri, come variabili globali, in modo tale che qua adesso possiamo fare qualcosa del genere. no, qui non ho, scusatemi, 4e alla quinta non ho definito una variabile globale, ok? Chiaramente a questo punto funziona, come prima, e non ho dovuto replicare questi valori, cioè se adesso voglio un altro pianeta vado a cambiare qua le masse. Il problema è solo spostato, nel senso che se io voglio avere un pianeta alla volta, cioè calcolare la velocità di fuga e la velocità orbitale di un pianeta alla volta, va bene. Posso mettere due variabili globali qua e cambiarle di volta in volta, ma se come abbiamo visto ieri volessi due pianeti, o 3 o 4 o 50, non posso iniziare a riempire il mio codice con 50 variabili globali e poi chiamare ogni volta queste funzioni 50 volte. Cioè si incomincia a vedere uno dei limiti principali della cosiddetta programmazione procedurale, cioè la programmazione procedurale è la programmazione che procede con delle procedure, cioè delle funzioni. Quindi io definisco una serie di funzioni, definisco delle variabili, poi applico le funzioni alle variabili. Sarebbe molto più interessante poter costruire un codice, un programma che anziché, come dire, separare le funzioni con tutti questi argomenti, ogni volta ripetuti, vedete queste funzioni tutto sommato hanno lo stesso m e la stessa r, questa qui in più c'ha anche h, però la struttura è molto simile. Sarebbe bello poter, tecnicamente si dice, incapsulare queste funzionalità all'interno di una struttura un po' più generale. E questo è quello che tenta di fare la cosiddetta programmazione orientata agli oggetti. Vedremo nella prossima lezione però ormai l'introduzione in Python delle classi e degli oggetti, che sono delle strutture che permettono di mettere all'interno dello stesso, tra virgolette, costrutto, sia funzioni che variabili. Detta così è molto semplicistica, ma alla fin fine in soldoni è questa l'idea dell'oggetto. L'oggetto è qualche cosa che incapsula al suo interno delle variabili, quindi per esempio un oggetto pianeta potrebbe avere come variabile la massa e il raggio e avere delle funzioni, escape velocity, orbital velocity, che però a quel punto non devo richiamare ogni volta ripassando la massa e il raggio, perché la massa e il raggio del pianeta sono già all'interno dell'oggetto stesso. Quindi vedremo che questa cosa qua permetterà la costruzione di un codice molto molto più, come dire, compatto e chiaro per certi aspetti, soprattutto molto più riutilizzabile. Per farvi capire e toccare con mano la problematica vi esorto a riprovare a fare questo esempio in cui però dovete calcolare velocità di fuga e velocità orbitale non per uno, ma per due o tre pianeti. Allora le funzioni rimangono due, però queste chiamate devono essere duplicate tutte le volte e devono ogni volta ripassare massa e il raggio più volte. Va bene, per stasera mi fermo qua e domani o dopo domani, insomma nei prossimi giorni, adesso però durante la settimana tornerò a dare la priorità alle lezioni di matematica e fisica, però anche queste lezioni di programmazione proseguiranno la prossima volta con l'introduzione al concetto di oggetto, ok, in Python, di classe e oggetto. Bene, buonanotte e buona domenica sera.